È un continuo aumento, è un continuo rimpallo di tutti questi prezzi e noi siamo anche un po' confusi su cosa fare e come proporci. Caro energia, rialzo del costo delle materie prime e della fornitura di prodotti, baristi e ristoratori continuano a fronteggiare le difficoltà economiche dopo due anni di problemi e di chiusure causate dalla pandemia. Per gestire i rincari, a breve, anche questa categoria sarà costretta a ritoccare i listini. A scattare la fotografia della situazione attuale è Mario Di Remigio, presidente dell'associazione ristoratori di Confcommercio Marche Nord. Sicuramente gli stagionali che apriranno adesso avranno già i prezzi ritoccati. Per quello che riguarda i ristoranti che sono più o meno annuali, per esempio i prezzi sono quelli del 2019, adesso a maggio sicuramente se non cambia qualcosa, qualcosa dovremo ritoccare. Diciamo che per i bar è già stato fatto da gennaio un incremento sia del caffè che della pasta perché i costi erano sostenibili e quindi diciamo che questo è già in atto. Coloro che invece hanno tenuto aperto tutto l'anno, arriva dito il presidente, hanno subito le contrazioni del mercato dovute all'emergenza sanitaria e all'aumento dei prezzi, come quelli di luce e gas, ma non solo. Ci sono tutti quei costi che sono aumentati da gennaio in avanti per un po' speculazione, non so farina, grano, ma anche il pesce, voglio dire la carne. Quindi è un po' si stava alla finestra guardando se questo era una cosa che rientrava un po' nei ranghi, ma vediamo che poi tutti i giorni i nostri fornitori ci comunicano gli aumenti, quindi diciamo che diventa quasi inevitabile il ritocco dei prezzi. Ad influire anche la guerra tra Russia e Ucraina, d'altra parte, si spera che l'alentamento delle norme anticontagio possa far ripartire il settore, per dire migio, il vero cambiamento si avrà dal prossimo mese, quando ci sarà una sorta di tana libera tutti, senza più bisogno di presentarsi con lascia passare per accedere nei locali al chiuso. Tutto questo dovrebbe finire, quindi per i ristoratori già il problema Covid dovrebbe essere in qualche modo superato, anche se noi siamo tra tutti quelli più penalizzati perché siamo al chiuso, quindi noi fino al primo di maggio dobbiamo chiedere il Green Pass, non rafforzato ma quello base, però sempre il Green Pass dobbiamo chiedere, mascherine e tutto quanto. Questa sarà una delle svolte, anche perché il bel tempo come oggi è una bellissima giornata, se da maggio in poi il tempo sarà clemente con noi, quindi torneremo tutti all'aperto e diciamo che i problemi in qualche modo si affevoliscono.